Questa è Sticky, c'è il Dish Gambino, Kirby, featuring Nyjah, è proprio lei, la... cos'è? Nyjah è la protagonista dei Desideri, della protagonista di Shame, la serie televisiva di cui vi raccontiamo qualcosa adesso molto velocemente, ma senza fare spoiler, perché è un perfetto svuotacervello, divertente, thriller, horror, commedia nera, tutto questo creato e ideato da Donald Glover, a.k.a. Childish Gambino, un geniaccio senza... Che dopo Atlanta, direi che fa di nuovo una gran bella cosa, come leggevo su un articolo di, adesso lo recupero, Serial Minds, giustamente se fosse uscita su Netflix, ne staremo già parlando da giorni, probabilmente perché Netflix ha una maggiore penetrazione, ecco. Martella, molto facile. Però invece è su Amazon Prime, che comunque, insomma, non che non ci sia, cioè The Boys e LOL dimostrano che c'è un pubblico grosso anche su Amazon Prime, ma è un po' diverso. Forse non fa molto piacere al LOL, al LOL washing di Amazon Prime, questa cosa, però è una cosa bella che, appunto, magari... Allora, Swarm è una serie molto, molto interessante, con degli episodi non particolarmente lunghi e questo per me è un ottimo... Plus. Plus, esatto. La protagonista è questa ragazza, Dree, Andrea, che ha una venerazione per questa pop star che potrebbe essere un po', diciamo, collegata all'idea che abbiamo di Beyoncé, secondo me, come idea. La divinità a Beyoncé. Esatto. Ma il suo amore per questa pop star è veramente sconfinato e privo di qualsiasi limite. La protagonista ha anche una sorella, che è il suo grande amore insieme a questa pop star, sono le sue ragioni di vita, il suo scopo. Infatti, si può dire che questa è anche una serie sul trovare il proprio posto nel mondo e il proprio scopo, per questo dico che non è propriamente uno svuota cervello, perché ci sono dei vari livelli di lettura, secondo me, anche molto interessanti, anche che riguardano un discorso razziale e anche di confronto tra il bianco e il nero, soprattutto in una puntata della serie. Ovviamente non ve la possiamo poi andare a raccontare più di tanto e, insomma, questa protagonista fa di tutto per raggiungere il suo scopo, ovvero conoscere, incontrare, essere il più vicino possibile a questa pop star. E tra il tutto c'è anche, ovviamente, il fattore horror, cioè quello che può fare di estremamente violento. Più di così io non direi, perché è una serie che va goduta, ma veramente vi assicuro, ha un ritmo e anche delle scelte che vanno dal sorprendente al grottesco, a volte al divertente, ma sicuramente non ti lasciano, non c'è mai nulla di banale. La protagonista è semplicemente strepitosa, Dominic Fishbeck, classe 91, una delle attrici sicuramente da tenere sotto occhio appena fa un film. L'abbiamo già vista in Judas and the Black Messiah, non a caso, insomma, che era un altro film incredibile. Non a caso uscirà presto con il nuovo Transformer, quindi già gli occhi delle persone che vogliono fare monetine sono su Dominic Fishbeck, uno sguardo, anche un'intensità. Riesce a fare cose in pochissimo spazio di telecamera, veramente molto. Io l'avevo notata in una serie che credo sia andata su Apple TV+, che è Gli ultimi giorni di Ptolemy Gray, che è un'altra serie che racconta un po' la schiavitù in America, la schiavitù degli afroamericani, quindi insomma un'altra serie molto interessante, l'avevo già ad occhiata, era ancora più piccola, bravissima. La struttura della serie permette, in poco tempo, le puntate durano dai 27 ai 39 minuti, quindi appunto se volete definirlo lo suo cervello era anche molto ritmato, perché è anche molto denso di cose che però hanno uno spazio ben illuminato, ben ripreso, una cosa bella, finalmente una cosa che puoi anche, dentro puoi trovare anche delle belle intuizioni, delle idee, delle cose che, aspetta, ma cosa sto vedendo? Bella questa, bravi! E applaudi davanti allo schermo. La struttura del racconto, abbastanza omerico come anche andamento del personaggio, la protagonista appunto arriva molto vicino, va molto lontano all'obiettivo, è appunto uno di sé a vera e propria però su gomma, all'interno degli Stati Uniti, molto spesso incontra una puntata, alcune situazioni, alcuni personaggi, nella puntata, nella serie arriva anche a incontrare Billie Eilish, non Billie Eilish, ma l'attrice Billie Eilish, che appunto esordisce la cantante. La cantante esordisce anche al cinema, veramente molto in parte, sì, 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 interpreta Eva, non posso dire altro, però racconta anche molto di come vengono inserite le personalità delle pop star, quindi come Donald Glover riesce anche nel cartello iniziale di questa serie a dire che tutto quello che vedete è assolutamente verosimile, non è volutamente esposta la finzione di questo racconto perché è tutto plausibile, quindi probabilmente Donald Glover ci vuole raccontare anche qualcosa nel dark side of the show business, nel mainstream musicale, qualcosa che ha delle tinte horror. Molto interessante, veramente ve lo consigliamo, tanto da consigliarvelo mancando dell'ultima puntata, quindi non vi possiamo dire nulla. Non ve lo diremmo comunque come finisce, se no roviniamo tutto, comunque sicuramente è qualcosa che va visto. Vi piacerà anche se siete amanti del true crime? True crime, sì, sì. Per la puntata 7, così. No, no, molto molto interessante.